Provare a ripartire dai 60 minuti giocati contro il Como su buoni ritmi e soprattutto con tante buone giocate. Questo è l'obiettivo dell'Arezzo in vista della trasferta di Carrara. Il 28enne catanese Pietro Arcidiacono è il candidato a prendere il posto di Bearzotti sulla trequarti nel 4-2-3-1 disegnato da Mister Sottili. Il reparto dei trequartisti sarà poi completato da Grossi al centro e Yanga sulla corsia mancina. Riferimenti in attacco sarà Moscardelli mentre la difesa composta da Luciani, Sirri, Milesi e Masciangelo viaggia verso la conferma così come la coppia mediana formata da Fogli e Corradi. Assenti in Casarezzo saranno Sabatino alle prese con l'ultimo turno di squalifiche Giuseppe De Feudis costretto ai box per un problema all'adduttore. Andrea Danesi conferma il 4-3-3 della sua cararese. In porta ci sarà Contini che ha scavalcato nel leggero archielago Marzini, titolare in Coppa nella passata stagione. La difesa a 4, vedrà al centro la coppia Battistini-Massoni con miglia vacca a destra e foglia a sinistra. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Marzini, protetto ai lati da Torelli e Cristini. In attacco spazio al tridente formato da Del Nero, Miracoli e Tutino. Calcio d'inizio alle 18.30. Arbitro dell'incontro sarà Fabio Pasciuta di Agrigento, coagliuato da Lorenzo Livolzi di Firenze e Alessio Berti di Prato.